Allora, buonasera a tutti, riprendiamo l'argomento che abbiamo iniziato, se non sbaglio, il 24 aprile, che era quello sui grafi, quindi se vogliamo il penultimo grande capitolo, macro argomento del corso. Oggi vorrei iniziare a vedere che cosa ci posso fare con i grafi, perché la volta scorsa abbiamo cercato di capire che tipo di oggetto fossero e in qualche modo come si potessero muovere i primi passi con la libreria J-Graph-T che ci permetterà di gestirli. Allora, vedremo nelle prossime settimane varie tipologie di algoritmi che si possono applicare su questo nuovo tipo di dato grafi, dai più semplici via via a quelli un pochino più complicati, algoritmi che alcune volte dovremo implementarci noi, altre volte invece faremo uso, ci appoggeremo sulla libreria J-Graph-T perché, guarda caso, sono già implementati sopra. Ci accorgeremo che in molti casi gli algoritmi che devono lavorare sui grafi saranno di tipo ricorsivo, quindi le cose che abbiamo fatto sulla ricorsione, oltre a servirci in generale per risolvere, per affrontare i problemi di ottimizzazione o di ricerca, servono anche per capire il funzionamento di alcuni degli algoritmi con cui avremo che fare sui grafi. Allora, la prima operazione che faremo sui grafi, la più semplice, oltre alla creazione, è quella della visita, quindi partire da un vertice e trovare quelli vicini, che è un po' l'argomento di oggi, ma io vorrei prendere un po' la larga, poi se non finisco oggi l'argomento delle visite lo continuiamo lunedì, non si fa male a nessuno, cercando di costruire insieme un esempio su cui poi costruire la visita, magari negli ultimi minuti della lezione, un esempio di un grafo un po' più grande, un po' più complesso di quelli che abbiamo visto come esempio, facciamo anche un po' di allenamento e cerchiamo di capire un po' meglio come costruire questi grafi. Allora, io ho un esempio di un grafo su cui vorrei lavorare oggi, è un database, quindi costruiremo un grafo a partire da un database esistente, il database lo trovate qua, nel materiale del corso, tra materiale ho aggiunto ieri, tra i vari dataset esistenti e ho aggiunto uno qua in fondo che ho chiamato country borders, cioè confini tra stati. Questo database da cui trovate le solite sequelle da scaricare e importare, è tratto da questo sito che avevo trovato in giro, che dici che c'entra niente, ma essenzialmente è un sito che registra i vari conflitti che ci sono stati, c'è una serie di volontari che si sono messi lì a registrare i vari guerre, conflitti, dispute sui confini, etc., che ci sono stati tra i vari stati nell'arco dei secoli. Ma di questo sito non interessava, c'è una sezione dataset che contiene varie cose, tra cui un elenco di città, che è qua, e un elenco di più avanti di relazioni di contiguità tra stati. Adesso noi, il lavoro che avevo fatto a suo tempo era di andarmi a scaricare i file originali da questo sito che erano in formato CSV, convertirli in SQL, metterli in tabella, creare gli indici e quindi vi do già un database già addomesticato in SQL. Però per capire la fonte dei dati, l'ho presa da qua e questi signori forniscono tra le varie cose, molte cose hanno a che fare con il problema di guerra, alleanze, conflitti, etc., questo dataset sulla contiguità, registra i confini via terra e via mare di tutti gli stati a partire dal congresso di Vienna, quindi copre il periodo che va dal del 2016 al 2016, che è l'anno in cui è stato aggiornato per l'ultima volta questo dataset. Quindi questo qua, parlando di grafo, noi ci immaginiamo facilmente un grafo di tipo geografico, in cui adesso il dataset originario era fatto in questo modo, ma non ci interessa andare a vedere i dati originari se non tra un secondo, quando dovremmo capire una variabile, ma ci stiamo immaginando, io mi sto immaginando un grafo in cui i vertici siano tutte le nazioni del mondo e gli archi tra due vertici indichino se quei due stati sono confinanti oppure no. Quindi costruiamo un grafo che abbia anche un significato vero, che corrisponda essenzialmente la cartina geografica mondiale, aggiornata al 2016. In questo database, Countries, ci sono due tabelle, non guardate questa che si chiama 2006, è stata creata appositamente per un tema d'esame, ma noi non la consideriamo. Ci sono due tabelle principali, una si chiama Count Country Data Contiquity. La tabella Country è la più semplice, contiene l'elenco di nazioni, sono 218 nazioni, comprese quelle che esistono oggi, ma anche quelle che sono esistite in passato, visto che questo dataset copre dal 1800 in avanti, quindi stati come da qualche parte c'è non è questo l'elenco completo delle nazioni esistenti oggi, è l'elenco di tutte le nazioni che sono esistite e sono state trattate in questo database. L'altra tabella è quella che ci interessa, scusate, le nazioni sono rappresentate oltre che ad un nome, la cui colonna si chiama State NME, hanno voluto risparmiare una A, non chiedetemi perché, anziché State NAME, una Country Code che è un numerico e una State Abbreviation che sono un codice di tre lettere che identifica lo Stato. Poi c'è la tabella della propria Contiquity che, vediamo se riusciamo a allargarla un pochino, è di questo tipo, Stato 1 numero, Stato 1 abbreviazione, Stato 2 numero, Stato 2 abbreviazione. Quindi è un po' ridondante questa cosa, perché avere il numero, avere l'abbreviazione dello Stato è equivalente, perché io risalgo in ogni caso, sono entrambi delle chiavi di quella tabella, sono entrambi degli identificatori univoci. Però questo mi dice che l'Italia e il Montenegro sono confinanti a partire dal 2006, voi dite non è vero, aspetta un attimo. Così come l'Albania e il Montenegro sono confinanti a partire dal 2006, 2006 probabilmente l'anno in cui il Montenegro è stato creato come nazione indipendente. Croazia e Montenegro dal 2006, eccetera, eccetera. Quindi le colonne 2 e 3 e le 3 e 4 insieme creano una coppia di stati che sono confinanti. Sono confinanti in che senso? Perché la definizione di confinante è un po' arbitraria. Tu dici no, come non è arbitraria? Sì che lo è. Perché tu puoi avere due stati che confinano via terra. Che so, Italia e Francia, ci sono le montagne in mezzo, a un certo punto tu fai un passo e sei nell'altra nazione. Però ci sono nazioni invece che confinano lungo un fiume. Allora, confinano via terra o no? Se c'è un fiume in mezzo. Perché di qua del fiume c'è un'azione, di là del fiume c'è un'altra. Si chiama confinare via terra o no? Tu dici ma sì, è solo un fiume. Sì, ma se anziché un fiume fosse uno stretto di 2 chilometri? E se fosse, che so, Sardegna e Corsica, confinano? Allora, sono definizioni diverse, no? Dipende che cosa intendiamo. E infatti in questa tabella si tiene conto proprio di questo fatto con una colonna che si chiama CONTTYPE, qui vogliamo sempre risparmiare caratteri, sta per CONTIGUITY TYPE. Questi CONTIGUITY TYPE, ve lo faccio vedere al volo, andando a prendere i file originari che sono qua, no, perdono, c'è ovviamente un documento che ti spiega più in dettaglio il significato delle colonne che io vi ho riassunto così in tre minuti, ma in particolare ci interessa la tabella CONTIGUITY TYPE che dice che se il tipo di contiguità è 1, consideriamo che le nazioni confinano se sono separate da terra, quindi via terra oppure un fiume, 2 se sono separati da meno, al più 12 miglia di acqua, 3 se sono superati separati da 12 a 24 miglia di acqua, 4 da 24 a 150 miglia che è il caso di Italia e Montenegro, che avevamo visto nella tabella e dice ma come non confinano? in realtà confinano via mare dove il tratto di mare è maggiore di 24 miglia e minore di 150 miglia perché avevamo un tipo di contiguità pari a 4 e 5 separate da più di 150 ma meno di 400 miglia d'acqua, allora qua cominciamo a avere anche del mezzo mediterraneo in mezzo essenzialmente, non se pensiamo agli stati nostri vicini, quindi per parlare di stati confinanti dobbiamo innanzitutto decidere noi quale tipo di confine vogliamo considerare, se vogliamo considerare solo i confine via terra o al massimo separati da un fiume, considereremo solamente le righe della tabella contiguiti che avranno contiguiti type uguale 1, se invece vogliamo considerare altri tipi di confine, se dovessi pianificare un viaggio probabilmente mi interessano anche i confini 2 e 3 perché ci sarà probabilmente un traghetto, un modo di spostarsi via mare, se invece il viaggio lo faccio, voglio farlo via terra in auto allora non mi interessa, quindi sta a noi decidere, la tabella ci fornisce tutte le informazioni non solo sui confini diretti via terra, ma anche sui confini un pochino più indiretti, separati da bracci d'acqua, da rami d'acqua e bracci di mare di ampiezza più o meno diversa. Ricordiamoci che il punto di partenza di questo database non era di tipo geografico, ma è di tipo storico sui conflitti, le guerre, quindi questi molto spesso avvenivano anche via mare, quindi per loro era importante catturare questo tipo di, infatti lo chiamano contiguità, non necessariamente confine. Ok, ma noi ci soffermiamo sulla parte facile sui confini. Quindi abbiamo visto le colonne che ci interessano, ovviamente se andiamo a prendere la versione odierna dei confini, ecco qui c'è questo database a un errore, nel senso che c'è un'informazione mancante, mi dà l'anno di inizio della relazione di confino, ma non mi dà l'anno di fine. Quindi so che questi stati, l'Azerbaijan e il Turkmenistan, immagino dalla sigla, sono confinati dal 1991, ma se nel frattempo qualcuno di questi stati fosse scomparso, non questi due, mi sa che esistano ancora, ma se la coppia di uno di questi stati uno di due fosse scomparso, si fosse fuso con un altro, si fosse scisso, non c'è la data che mi dice guarda che questa relazione di contiguità non è più valida da quell'anno in poi, perché quello stato non esiste più, è un dato che non c'è. Quindi noi adesso quando costruiremo il grafico ci accorgeremo che ci sono dei confini con degli stati che non esistono più, ma non sappiamo come cancellare perché nel database manca questa informazione, quindi è un'approssimazione che abbiamo, purtroppo si sono dimenticati di inserire un dato. Ok, questo è per presentare il database, su questo ci costruiamo un grafo e poi una volta che abbiamo il grafo cominciamo a chiederci, ma se io parto in bicicletta dall'Italia dove posso arrivare ad esempio? O cose di questo genere. Ecco l'ultima colonna che forse, non so per citarla, è la prima diade, non è altro che un numero, una codifica un po' stramba che non è molto relazionale nel senso di SQL, è un numero intero che altro non è che la concatenazione del numero dello stato 1 nel numero dello stato 2, prendendo il secondo moltiplicato per 1000, 348 più 344.000 fa 344.348, questo è un numero intero, se lo leggo col puntino al posto del 1000 mi sembra che sia effettivamente la concatenazione dei numeri dei due stati, è semplicemente un identificativo univoco, non dice nulla di più rispetto alla copia stato 1, stato 2, anzi stato 1, stato 2 è un pochino più esplicito. Un'altra cosa che magari è utile vedere da questo database prima di costruire il grafo è se queste relazioni sono da intendere orientate o non orientate, cioè se c'è scritto che Italia confina con Montenegro, è sottinteso anche che Montenegro confina con l'Italia e quindi questo è un arco non orientato, una relazione non orientata perché da sola copre le due direzioni, oppure mi aspetto che nel database più avanti ci sarà una riga in cui Montenegro confina con l'Italia? Non lo so, però posso andarlo a vedere. Ad esempio metto un filtro su state 1 ab uguale mtg e infatti vedo che più avanti c'è scritto anche Montenegro confina con l'Italia, quindi aspettiamoci nel database che ci sia ogni volta che abbiamo una relazione di confine che ci sia questa ma più avanti o dietro ci sia anche quella simmetrica, quindi quando costruiamo il grafo semplicemente dobbiamo saperlo. Questo è un po' il punto di partenza, quindi il nostro primo compito è costruire un grafo che rappresenti questa relazione di confine limitandoci alla contiguità di tipo 1, quindi i confini via terra. Allora per farlo ci dobbiamo creare un primo progetto, creiamolo già come progetto JavaFX così poi ci aggiungeremo l'interfaccia per ricerca di stati e cose del genere, quindi abbiamo county borders, ok, country, e country controller. All'interno di questo progetto dobbiamo leggere il database e costruire un grafo. Quindi come librerie ci serviranno sia la librerie JDBC driver di MySQL, sia il jgraph.t. Quindi prima di cominciare a scrivere il codice fatemi creare una cartella in cui vado a copiare il driver JDBC, lo prendo da qualunque altro progetto, copia e incolla e la libreria jgraph.t. La libreria jgraph.t se l'avete scaricata ha questa faccia, è un file zip. Allora fateci un'attenzione, non dovremmo impattare quasi per nulla, però gli manutentori di jgraph.t hanno rilasciato la versione 1.0 pochi mesi fa, adesso è 1.0.1 che correggia qualche problemino. Hanno modificato alcune funzioni, alcune interfacce, alcuni metodi, quindi se vedete degli esempi magari dell'anno scorso non compilano perché l'anno scorso trovavamo la versione 0.9 e quest'anno uscita la versione 1.0 e in qualche punto non è totalmente compatibile, ma sono cose minime, magari hanno aggiunto un parametro, hanno tolto, hanno cambiato l'assignatore di un metodo, cose che si possono adattare, ma se quest'anno usiamo tutti la versione 1.0.1 non abbiamo problemi. In questo zip ci sono, oltre che il javadoc, il sorgente della libreria, dentro la cartella lib trovate vari jar e quello che ci interessa è questo, jgraph.t core, quindi tutti gli altri non ci servono, se vogliamo inserire nel nostro progetto. Quindi eccolo qua, una copia, un link di questo file jgraph.t core e questi due jar devono essere entrambi aggiunti ovviamente alle librerie del progetto. Ok, adesso cominciamo a ragionare, abbiamo le librerie che ci servono. Quindi noi avremo un nostro, all'interno della nostra applicazione, avremo un nostro modello, il quale model dovrà creare il graph. Quindi ci creiamo un nostro package.model, all'interno del quale metteremo la classe modello che internamente gestisce il graph, sappiamo che tutti i dati importanti dell'applicazione sono di proprietà di responsabilità del modello e ci saranno probabilmente altri oggetti che rappresentano una singola country, una singola relazione di contiguità, gli oggetti semplici in cui memorizzare i dati. Quindi noi qua creeremo una classe model, fammi la scrivere giusta, e almeno arriviamoci tra un secondo. Allora, questa classe model, parto in modo bottom up, non so ancora cosa fare l'applicazione, io so solo che mi sono dato un compito. Proviamo a leggere questo database, queste relazioni di confine all'interno di un grafo. Quindi dentro il modello dovrò avere sicuramente un oggetto di tipo grafo. La librerie G-Graphy però, avete visto che ci permette di definire tanti tipi di grafi diversi. Allora, io qua avevo preparato questi 3-4 slide come guida da usare ogni volta che devo creare un grafo per capire quali delle classi della libreria G-Graphy è più adatta, rispondendo a 3 semplici domande e poi andando per esclusione. Queste sono tutte le classi supportate che ovviamente sono tutte figlie di un'interfaccia stratagraph e io istanzierò una di queste sottoclassi. Quale? Allora, la prima domanda è, il grafo che serve a me adesso, in questo programma, è un grafo orientato o non orientato? È un grafo, secondo me, non orientato, perché la relazione di confine, per come la definiamo, confine via terra ma anche via mare, è per sua natura simmetrica, quindi non è concepibile che A sia confinante con B e B non sia confinante con A. Quindi è un grafo non orientato, il che vuol dire che dobbiamo guardare solamente da adesso in avanti la parte sinistra della figura, quindi mentalmente cancellate la parte destra. Adesso nella parte sinistra della figura, che l'abbiamo cancellato, che è ancora nella nostra attenzione, chiediamoci il grafo deve essere pesato o non pesato? Se è un grafo pesato sarò qua, ricordate che la parte destra l'abbiamo già esclusa, non andiamo per biforcazioni successive. Se è un grafo pesato o è un grafo non pesato? Allora, quando io dico che due Stati sono confinanti, esiste un valore numerico da associare a questa relazione di confine? No, potrebbe essere la lunghezza del confine in chilometri, ma non ce l'abbiamo questo dato, quindi l'unica cosa che possiamo dire è se confinano o no. E a Monti abbiamo già scelto qual è il criterio di contiguity type tipo 1, 2, 3, 4, 5. Dimmi. Lui propone di mettere come peso il contiguity type, quindi mettiamoli tutti e poi indichiamo nel peso il fatto che siano contigui tipo 1 o tipo 2. Allora questo non mi piace tanto perché è un po' un abuso del concetto di peso, perché un peso lo dobbiamo leggere come una informazione in più su un arco, a proposito di un arco, a proposito di una coppia di vertici. Il valore del peso non influenza il fatto che l'arco esista oppure no, normalmente, per definizione. Io ho un arco e associato a quest'arco, che quindi esiste già, so già che esiste, c'è un numerillo che ne indica il peso, l'importanza, la lunghezza, la dimensione, il tempo, etc. Usare il contiguity type qui come peso è vero che lo posso mettere, tecnicamente lo posso fare, non c'è nessuno che me lo vieta. Però mi trovo qualche difficoltà perché se poi io decido di, che ne so, considerare nel grafo solamente gli archi di tipo 1, quindi in contiguità via terra, io sto in qualche modo ignorando o fingendo che non esistono degli archi, quindi sto dicendo che quell'arco esiste o non esiste, a seconda del valore del suo peso, che è un po' il lavoro contrario. Molti degli algoritmi che ho già fatti, che lavorano sugli archi, quelli che esistono, non funzionano più perché considererebbero anche gli archi che io non vorrei considerare, non so se sono riusciti a comunicare il mio disagio nell'usare quell'informazione come peso. Un peso è qualcosa che differenzia, dato un arco esistente, dice che quest'arco è più difficile o facile da attraversare di quell'altro, non che uno è giallo e l'altro è vero e l'altro è blu, uno via terra e l'altro via mare, sono di natura diversa. Se volessi farlo dovrei probabilmente creare un oggetto arco di tipo più complesso, ad esempio con un'enumerazione che dice confine via terra, confine via mare, lo catturerei questa informazione come oggetto, non come numero cacciato lì che poi va interpretato sapendolo. Quindi in questo caso io direi non sono pesati questi archi e quindi le nostre classi sono rimasti solamente quelle della prima colonnina, l'ultima ovviamente no, una di queste tre. Quindi la terza domanda che dobbiamo rispondere è il grafo, è un grafo semplice o è un grafo strambo? Strambo vuol dire multigrafo o pseudografo dove essenzialmente ci chiediamo se è concesso che data una coppia di vertici e dato il fatto che esista già un arco tra questi due vertici, è concesso che esista un secondo arco tra gli stessi due vertici? Questo sarebbe un multigrafo. O è concesso che un vertici sia collegato con se stesso? Direi che nel nostro caso di confini tra stati nell'una e nell'altra di queste condizioni non si verificano. Quindi siamo nel caso di un grafo semplice, un grafo semplice, non pesato e non orientato, vuol dire che è un simple graph. Quindi l'oggetto che dobbiamo costruire è un oggetto di tipo simple graph che fa parte degli underrated graph, dei grafi non diretti. Quindi questo giochino è per poter definire che all'interno del modello avrebbe un oggetto privato di tipo underrated graph e lo chiamo graph. E se lo voglio creare, creo un nuovo grafo di tipo simple graph. Allora, facciamoci spazio e lo aggiorniamo sui punti interrogativi. Allora, io qua sempre definisco una variabile e cerco sempre di usare il solito metodo di definire la variabile usando un'interfaccia e ovviamente creare l'oggetto usando una classe e non definire in modo che, diciamo più in generale, se dovessimo cambiare perché ci accorgessimo magari che ci sono le relazioni di confini di uno stato con se stesso che non avevamo pensato, basterà modificare il simple graph in un pseudo graph, ma entrambi sono underrated graph e quindi tutto il codice che abbiamo scritto che si basa solo sul fatto che il grafo è un grafo non orientato, continuerà a funzionare. Quindi cerchiamo di fare sempre il numero di ipotesi minimo indispensabile, soprattutto nella dichiarazione delle variabili, dell'interfaccia, dei metodi etc. Allora, il grafo è parametrizzato, lo sappiamo già, questa libreria JgraphT ci chiede di parametrizzare il grafo col tipo di oggetto da usare come vertice e un tipo di oggetto da usare come arco. Ci sono anche altre librerie sui grafi in giro che trovate, però molte magari usano direttamente un numero intero, a noi non interessa ribaltare su un numero intero, su valori interi le cose, noi vogliamo lavorare con gli oggetti, quindi per noi il vertice è cosa? È una città, una nazione, una country, il nostro grafo è un grafo in cui i vertici sono nazioni e anche a livello di codice, concettualmente, non mentalmente, anche a livello di codice farò in modo che un vertice sia l'oggetto nazione. Quindi mi creo un oggetto country, poi ci penso a che cosa c'è dentro questo oggetto e dirò che il mio grafo ha come vertici degli oggetti di tipo country. Quindi l'add vertex aggiungerà un oggetto di tipo country, il vertex set, cioè il metodo che mi restituisce all'insieme di tutti i vertici, mi restituisce un set di country. E qual è l'oggetto che uso per rappresentare gli archi, gli edge del mio grafo? Allora, un edge è una coppia, era identificato dalla coppia di vertici corrispondenti. Allora, jgraph-t ci semplifica un pochino la vita, perché se noi non dobbiamo aggiungere altri tipi di informazioni particolari, come quella di prima, a un arco, ci dà già predefinite due classi, che se vogliamo possiamo usare come tipo di dato relativo all'arco, che sono il default edge o il default weighted edge, quindi edge di default o edge pesato di default, che sono ovviamente definiti come default edge, sarà una coppia di che cosa? Dello tipo di oggetto che ho usato come vertice, ma questa parametrizzazione se la fa lui all'interno. Quindi noi non dobbiamo ogni volta dover definire un altro oggetto che contenga una coppia di country in questo caso per usarlo come arco, ma usiamo l'arco di default e funziona. Default edge sempre importato da jgraph-t. Quindi l'arco ha come vertice un oggetto che ho specificato io, come archi, l'arco di default che sarà la coppia di country in questo caso. Questo per definirlo, per definire la variabile. Per creare l'oggetto, io però l'ho creato qua direttamente nella classe, ma poi potremmo metterlo nel costruttore ovviamente, qua era solo per ragionarci. Ho un costruttore che a questo punto deve fare il new su una classe vera, non sull'interfaccia, quindi ho scelto simple graph che è la classe che più da vicino rappresenta le caratteristiche del mio grafo, i parametri sono gli stessi, ma qui sono indicati sottintesi perché li può dedurre facilmente da solo java dalla definizione della variabile e però vuole che cosa? Vuole un parametro, il costruttore del grafo ha bisogno di un parametro che lo aiuti internamente a creare gli archi. È una complicazione dovuta alla genericità degli archi. Quando noi creiamo, lo vedremo un attimo nel codice, ma l'avete già visto, quando voi create un grafo, l'oggetto corrispondente al vertice lo create voi, nel vostro codice, lo creiamo noi nel nostro codice e poi facciamo un add vertex e gli passiamo l'oggetto già fatto. Quindi il grafo non ha bisogno di crearsi i vertici, gli passiamo noi già degli oggetti fatti. Ma quando aggiungiamo un arco, per esempio che avete fatto la settimana scorsa, grafo.addedge, vertice 1, vertice 2, noi gli abbiamo passato il riferimento a due vertici, non abbiamo passato un oggetto di tipo edge o di tipo default edge, se l'è dovuto creare lui. Allora vuol dire che dentro, nei meandi della classe simple graph, deve esserci un new, la creazione di un oggetto che sia un oggetto compatibile con questo tipo, default edge, che è il tipo che noi vogliamo che sia il tipo degli archi. E come fa il meando della classe simple graph a sapere che oggetto creare? E glielo dico io dicendogli qual è default edge.class. Il riferimento, punto class, è il meta oggetto, è l'oggetto che rappresenta la classe, è il riferimento la classe stessa. E quindi lui usa questo riferimento con i metodi di reflection, che per fortuna noi in questo corso non trattiamo, per creare un oggetto di un tipo parametrico. Allora, noi siamo contenti di non dovercene preoccupare, ma purtroppo nei meandi di graph ci sarà questo problema da risolvere. Noi dobbiamo solo ricordarci a livello pratico che quando creiamo un nuovo grafo, dobbiamo sempre passare il riferimento al tipo di classe da usare per creare gli archi. E altro non sarà che l'attributo class dell'oggetto che ho usato, che ho definito come arco. Quindi se è default edge, sarà default edge, punto class. Se è default weighted edge, come grafo, sarà default weighted edge, punto class. Se creo degli archi miei personalizzati, cosa che posso benissimo fare, se ne uso quello di default, sarà arco mio punto class. Questo è solamente nella costruzione dell'oggetto, è un artificio necessario. Ok, quindi noi possiamo avere, adesso cominciamo a strutturare questa classe, il nostro modello che come prima operazione potrà creare questo, mettiamo questa nu nel costruttore, mi piace di più che non vedere là sopra, è semplicemente una ristrutturazione minima, il codice. Quindi quando io creo un modello, lui si crea già un grafo del tipo giusto contenente 0 vertici e 0 archi, ovviamente è nuovo. E poi al mio modello dovrò dare un metodo, crea grafo, ad esempio, in cui il modello deve popolare l'oggetto grafo con i vertici e con gli archi opportuni. E come farà a farlo? Vabbè, gli archi è facile. Perché? Che aggiungere gli archi a un grafo significa usare il metodo add vertex e uno per uno aggiungere le singole country. Da dove le tiro fuori queste country? Le tiro fuori facendo una query sulla tabella country del mio database. Quindi a questo punto posso anche scoprire che l'oggetto java country, che per ora ho definito vuoto, dovrà avere questi tre parametri, state abbreviation, country code, state name e dovrò avere una query che uno dopo l'altro mi legga questi dati del database e mi costruisca gli oggetti. Poiché è molto frequente dover aggiungere non un vertice, ma un blocco di vertici insieme, esiste un metodo di comodità che ci permette di aggiungere, di evitare di scriverci il loop da soli. All'interno di Iberia di GraphT c'è una classe che si chiama Graphs, una classe che si chiama Graphs, con la S, che contiene dei metodi di comodità, di convenienza. Graphs è una classe statica, lei non è legata al grafo, quindi per sapere su che grafo deve lavorare devo passarglielo come parametro. Quindi vedete che nella maggior parte dei casi il primo parametro di questi metodi è sempre un grafo. Ecco, tra questi lo vediamo là, che fa bella vista di sé, un metodo che si chiama AddAllVertices, aggiungi tutti i vertici. Ha un grafo di che cosa? Quale secondo parametro? Una collection. Quindi se io ho una collection posso in un'unica istruzione popolare il grafo con tutti i vertici di quella collection. Quindi il primo argomento è il grafo, il secondo argomento sarà una collection dei vertici, con tutti i vertici del grafo, con tutti i vertici che sono country. E chi è che mi può dire quali sono tutte le country, una lista con tutte le country, dao.listcountry. Il database, con un metodo list che mi fa la lista di tutti gli oggetti di un determinato tipo. Quindi la creazione dei vertici del grafo, nel caso in cui i vertici del grafo coincidono già con gli elementi di una tabella, alla fine è un'istruzione sola, grazie al DAO che ci dovremmo implementare, ovvio, non è gratis. Però questo non ci spaventa, sarà un select asterisco from country e poi c'è un po' di smaneggiamento con JDBC che ci fa un po' annoiare, ma insomma non ci preoccupa. giusto? E poi gli archi? Allora, creare gli archi del grafo, possiamo trovare tre grossi metodi, ragioniamo così in generale, poi lo applichiamo al nostro esercizio, a trovare un livello di codice. Il primo metodo è più stupido, più becero, più facile da scrivere, forse anche spesso il meno efficiente, ma quello che alla fine forse funziona sempre. Cioè, cos'è un arco? È un collegamento tra due vertici, quindi io posso chiedermi per ogni coppia di vertici del grafo, questi vertici devono essere collegati o no? Cioè io ti chiedo, ma Francia e Giappone confinano? Francia e Germania confinano? Beh la risposta sarà sì o no. se sì aggiungo l'arco, se no non aggiungo l'arco. E quindi ho un metodo molto semplice, sistematico per costruire tutti gli archi, semplicemente se io so rispondere alla domanda se due stati confinano oppure no. Allora in questo caso cosa farò? Farò un doppio loop che mi genera, tanto gli archi li ho già, scusate, i vertici li ho già, le country li ho già. E quindi mi costruisco facilmente le coppie, tutte le coppie di vertici. For country c1 due punti graph punto vertex set, vertex set è un metodo di grafo che mi restituisce, lo dice il nome, un set, una collection di tipo set che contiene tutti i vertici che ci ho messo dentro in quel momento. E la stessa cosa, questo sarà il vertice 1. C2 graph due punti di vertex set. Quindi qui dentro a questo foro ho tutte le coppie c1 e c2. Il mio non è un multigrafo, quindi devo escludere le coppie in cui c1 e c2 sono uguali, questo doppio form me le genera tutte. Quindi devo andare a vedere se innanzitutto not c1 punto equals di c2. Se sono diversi, perché altrimenti sto considerando un arco di un vertice con se stesso e in un simple graph se provo ad aggiungere un arco di un vertice con se stesso mi dà errore, mi dà un'eccezione ovviamente perché il simple graph non lo permette, a questo punto chiederò se dao punto confinano c1, c2. Cioè chi è che sa se c1 e c2 confinano il database? Devo farmi una piccola query nella tabella contiguity che se gli passo due stati mi dice sì, no, con un certo valore di contiguity type che posso fissare a 1 nel dao oppure posso passare ancora qua come parametro ma qui stiamo raggiando in generale quindi. Se sì, c'è una if, allora graph punto posso aggiungere il vertice c1 e c2. Quindi se io so implementare questi due metodi, dammi tutti i vertici e dati due vertici dimmi se devono essere collegati o no andando a interrogare il database, so costruire il graph. Ok? Vantaggio di questo metodo è che è molto semplice da pensare, da fare, ha molte poca difficoltà nello scrivere questa query, è la cosa più semplice che posso chiedere in database, dimmi se un dato c'è o no. Questo caso non è un dato, è una relazione tra due dati, ma... Lo svantaggio è ovviamente che io farò n quadro di queste query. Per ogni coppia di vertici chiedo il database e devono essere collegati. Quindi ci sono altri modi in cui posso ragionare. Versione 1. Un altro modo, che chiamo versione 2, perché oggi la mia fantasia arriva fino lì, è quella di dire, ma se io facessi lavorare un pochino di più il database e dato un vertice, mi facessi dare del database già l'elenco, una lista di tutti i vertici che confinano con quello prima, con quello precedente. Cioè io adesso davo due dati, due vertici, due country, e lui mi diceva confinano sì, confinano no. In questo caso. Io potrei cercare di essere un pochino più intelligente, chiedere al database di essere un pochino più intelligente, dicendo ma se io ti do la Francia, tu mi sai dire quali sono gli stati confinati con la Francia, no? Facendo una query. Tutto sommato il database lavora meglio quando lavora con insiemi di dati, con un result set di più righe piuttosto che un dato per volta. Allora potrei sfruttare questo, potrei pensare di ovviamente considerare una per volta i vertici del grafo. E per ciascuno farmi dare la lista delle città confinanti adiacenti, parliamo in termini di grafo in astratto, quindi sono vertici adiacenti a quello dato, chiedendo al DAO list adiacenti di C. Adesso mettiamo il Java Util qua. Sto dicendo, caro DAO, caro database, poi sono tutte qui da scrivere, caro database, se io ti do un country, tu mi dai la lista di quelle che confinano con essa? Facile no? Una tabella contiguity, where lo stato 1 è uguale C e dimmi qual è lo stato 2. Fine. E di questa lista cosa me ne faccio? Beh, devo creare gli archi. Quindi a questo punto potrò scandire C2, la lista degli adiacenti e per ciascuno di questi aggiungerò il vertici, aggiungerò l'arco ovviamente. C, C2. Allora, in questo caso il ruttato è lo stesso, no? Il grafo che costruisco è lo stesso. L'acquiri che devo fare sul database è un pochino più complicata. Prima gli davo due vertici doveva dirmi sono adiacenti o no. In questo caso gli do un vertice e mi deve dare lui l'elenco di tutti quelli che sono adiacenti. Va bene. L'acquiri è un pochino più complessa. Nel database attuale è banale. Però magari sono dei database dove i dati non sono proprio così già messi bene, comodi, allora tirar fuori la lista potrebbe essere più complicato. Quindi consideriamo tutte le possibilità. Quante volte viene fatta questa quiri? n. Prima la facevo n quadro, scusate qua, la facevo n quadro volte la quiri. Quiri semplice fatta n quadro volte. Qui una quiri un pochino più complicata fatta solo n volte. Tendenzialmente mi direi che conviene. A meno che il tempo di esecuzione di questa quiri non sia n volte più lenta, ma con n che cresce con la dimensione del problema. Se fosse 10 volte più lenta, ma 10 fisso, va bene. Se questa quiri fosse n volte più lenta di questa, allora le prestazioni sarebbero circa confrontabili. Ma però vorrebbe dire che il database proprio non è capace a lavorare. O non ha fatto gli indici giusti nelle tabelle. Perché vorrebbe dire che se lui ci mette n volte a restituirmi un elenco di dati rispetto a restituirmi ne uno, vuole dire che lui sta facendo una scansione sequenziale. Quindi c'è qualcosa che non va con l'efficienza del database. Mi aspetto che se il database fa il suo lavoro, questa non sia o di n più complesso rispetto a questa, ma sia un po' meglio. Quindi complessivamente la complessità sia o di n o di n un pezzo, dove questo è il pezzo della quiri, rispetto a o di n quadro. E poi attenzione, poi add edge viene sempre fatto dentro un doppio loop. uno potrebbe dire sì, però l'n quadro ce l'hai qui, perché add edge viene comunque chiamato nel caso peggiore n quadro volte. Sì, dopodiché l'add edge probabilmente prende 20 microsecondi e l'acquiri confinanti ne prenderà probabilmente 30 millisecondi, 10 millisecondi, ma vuol dire mille volte di più, da microsecondi a mille secondi. Quando vado fuori dal database e fare una quiri, già anche solo il tempo di connessione sono 20 millisecondi. Adesso poi noi scopriremo nella settimana prossima come fare ad abbattere il tempo di connessione. Però stiamo parlando di decine di millisecondi. Se lavoriamo all'interno di una struttura dati, lavoriamo nell'ordine dei microsecondi. Ricordate gli esercizi che facciamo le prime volte con le liste, di cercare che non riesco mai a misurare i tempi perché sono troppo veloci. Quindi, prima osservazione, quindi ho abbattuto la complessità, cioè il numero di chiamate di una funzione che è mille volte più lenta di un'altra. Quindi questo effetto, è vero che è un effetto n quadro, questo è un effetto n, quindi questo asintoticamente si farà sentire, ma si farà sentire quando i grafi saranno mille volte più grandi. Per adesso cominciamo a gestire questi. Seconda osservazione è che non è proprio vero, se io dovessi mettere la complessità, cioè il numero di chiamate, di addegge, non lo chiamerei n quadro, perché è vero che il numero di iterazioni, il ciclo esterno è n se è n numero di vertici, ma quello interno non o itera su tutti i vertici del grafo, ma solo sul presumibilmente più piccolo sotto insieme dei vertici adiacenti. Quindi il numero di chiamate che faccio qua sotto non è numero di vertici per numero di vertici, ma è numero di vertici per, come si chiama il numero di adiacenti, grado medio dei vertici. Quindi la complessità, il numero di chiamate è pari al numero di vertici per il grado medio del grafo. Il grado medio, non so, una cartina geografica sarà 4, 5, 6, su una cartina di 200 stati. Il grado di un vertice è il numero di adiacenti al vertice stesso, il numero di archi incidenti su quel vertice. non vado a farmi tante domande inutili, ma per caso la Danimarca confina con la Groenlandia? Beh, quella forse via mare non solo a distanza, ma con la Nuova Zelanda direi di no. Quindi questa è la seconda versione, se riesco mi conviene. Sposto un pochino di complessità nel DAO, la semplifico nel model. Poi potrei avere ancora un grado di semplificazione, oppure un approccio ancora diverso, che possiamo chiamarlo versione 3, se riesco a fare in colla. Il cui, immaginiamo andare ancora avanti, facciamo fare tutto il lavoro al DAO. Che cosa vuol dire fare tutto il lavoro al DAO? Fare in modo che il DAO mi sputi già proprio belli elencati, gli archi da aggiungere. Mi dia già esattamente un insieme di coppie di vertici. Faccia già la query esatta che mi dà Italia-Svizzera, Italia-Francia, Italia-Austria, Francia-Germania, Francia-Svizzera, Francia-Belgio, eccetera, tutte le coppie già elencate così. E io per ogni coppia devo semplicemente aggiungere l'arco al graffa. Quindi in questo caso non itero più io sui vertici. Ma dico al DAO, senti DAO, dammi un po' un elenco coppie di country adiacenti. Da quella lista io itero con un oggetto che a questo punto non è più un country, ma un country per, diciamo, una coppia di città. cp, chiamiamola, un oggetto che mi devo costruire ovviamente, lo sto inventando per il momento, però un oggetto che contenga due città. Visto che lui mi riserva una lista, ma questa lista, in ogni elemento della lista erano messe di due città, quindi mi costruisco un oggettino che contiene c1, c2. Per ogni country pair che mi dà già il DAO, che mi dà già il database, semplicemente farò un graffa, poi riesco anche a scriverlo, add edge, cp.getc1, cp.getc2. c1, c2 saranno le country 1, le country 2 dentro questa pair, dentro questa coppia di country. anche così funziona. Devo avere questo metodo del DAO fatto bene, completo, fa tutto lui, magari fa più di una query, se le serve, non so, sono fatti i suoi, ma mi dà già l'elenco degli archi. E per ogni arco della coppia semplicemente devo aggiungerlo. Allora qui il numero di query che faccio è 1, il numero di add edge che faccio è esattamente parlo al numero di archi del grafo, è il numero minimo, in assoluto, pertanto meno di quelle non ne posso fare di add edge, perché mi serve una per grafo, non ne faccio di sprecate. quindi in questo caso il modello ha la vita facile perché sta delegando, ribaltando tutto il lavoro difficile sul livello database, sul livello DAO. Allora, questa ovviamente è una semplificazione, nel senso che io vi ho fatto 3 casi, poi ce ne saranno forse altri 27 se uno va a considerare altri casi particolari. Però è un primo esempio in cui tocchiamo con mano delle scelte progettuali, in questo caso semplici, in cui siamo noi a dover scegliere dove, la complessità non la butto via, ma dove la metto? Questo lavoro a chi lo faccio fare? Lo faccio fare al database, quindi attraverso una query più complicata? Lo faccio io nel modello lavorando con le collection, lavorando con gli oggetti? Dove l'ha sposto questa operazione, che comunque è da fare? A livello di model o a livello di database? In generale non c'è la risposta migliore, dipende dai casi. In astratto il 3 mi sembra meglio del 2 che mi sembra meglio dell'1, ma lo dico in astratto perché io questo codice l'ho scritto, ma quello del DAO non ho ancora scritto e quindi magari in questo caso specifico, questo metodo lista delle coppie di county adiacenti è facile, perché è proprio questa, è già la tabella contiguity, mi dà già le coppie, stato 1, stato 2, ce l'ho già pronto, ma vedremo altri casi in cui non è così facile. Forse anche solo il grafo, non l'abbiamo ancora dato, degli anagrammi, che è data una parola, deve collegarsi a un'altra, se è un anagramma, se la prima è un anagramma della seconda, non lo fai con una query sola, una query che tiri fuori da quella tabella un join con se stesso, con il like nelle posizioni variabili, non lo fai con una query sola e quindi questa posizione qua, questa soluzione qua, mentre questa magari sì. Quindi di caso in caso ragioniamoci, vediamo su quali soluzioni spostarci, cercate di non buttarvi come sempre scrivere codice sulla prima che vi viene in mente, perché poi questo può voler dire perderci 3 minuti o perderci mezz'ora a fare magari la creazione del grafo, se uno prende la strada magari, non dico sbagliata, ma non tanto adatta a quel problema specifico, a quel database specifico così come è fatto, a quel grafo così come deve essere costruito. ok? Ok. Allora io non vi faccio perdere tempo a scrivere adesso i metodi del DAO, il metodo dell'oggetto country eccetera, se vi fidate di me ve li metto poi online. Questo era per ragionare insieme sulla creazione del grafo. Poi una volta che il grafo è creato, che cosa ci faccio? Allora le cose che avete visto la volta scorsa erano banali, lo stampo, l'elenco dei vertici, stampo l'elenco degli archi, stampo l'oggetto graph, ma di fatto non ci facevo nulla. Allora vediamo quali sono, e qui arriviamo al punto sulle visite, alcune operazioni più di alto livello che ha senso definire sui grafi. Allora la più semplice operazione che posso definire su un grafo è chiamata visita. Che cos'è una visita? Per definizione una visita in un grafo è un'esplorazione sistematica del grafo partendo da un vertice ben definito, che chiamo vertici di partenza o vertice sorso o vertice sorgente. E l'esplorazione sistematica perché ha come obiettivo quella di raggiungere tutti gli altri vertici che siano raggiungibili partendo dal vertice di partenza. Ma voi mi dite, ma è la stessa cosa del vertice adiacente? No. Vertici adiacenti sono vertici che sono direttamente collegati a un vertice di partenza. Invece in una visita io sistematicamente dal vertice di partenza ne trovo uno adiacente, ma da questo ne troverò un altro a cui a lui è adiacente e poi da lì un altro ancora e sono tutti vertici che in qualche modo possono raggiungere. Raggiungere anche attraverso più passi, non necessariamente attraverso un arco diretto. Il punto d'arrivo, l'output dell'operazione di visita è l'insieme di vertici che si possono raggiungere partendo dal vertice di partenza. Il modo in cui li trovo, questo insieme di vertici, dipende dall'algoritmo, dal metodo che uso. Quindi quando parla di esplorazione sistematica, sì, sistematica sì, ma in che modo l'ho sistematizzata? O in che criterio? E ci sono due tipi di visita che sono diametralmente opposte, ma danno lo stesso risultato, perché alla fine mi devi dire quali sono i vertici che posso raggiungere, partendo dall'Italia in bicicletta dove posso arrivare, con tanto tempo e tanta pazienza e tanta fatica, e queste due, quindi l'insieme degli stati che posso raggiungere in bicicletta dall'Italia non deve dipendere dal modo in cui faccio il calcolo, l'insieme degli stati è quello, ma magari lo posso calcolare in modo diverso e si parla di visita in ampiezza o visita in profondità. Cos'è la visita in ampiezza? La visita in ampiezza è un algoritmo nel quale, ricordiamo la definizione, io ho un vertice di partenza e voglio avere un metodo sistematico per trovare tutti i vertici che con uno o più passaggi, quindi attraversando uno o più archi, posso raggiungere partendo da quello di partenza. Non è detto che sia tutto il grafo, non è detto che siano tutti gli archi del grafo, perché ad esempio nel nostro grafo di contiguità se io parto appunto dalla Nuova Zelanda non potrò arrivare in Canada, non ho i voli, non ho gli aerei, non ho gli transcontinentali e quindi partendo da un vertice raggiungo un sotto insieme dei vertici del grafo, a volte li raggiungo tutti, in quel caso si chiama di grafo connesso, cioè da un vertice li posso raggiungere tutti, ma in molti casi un grafo non è connesso complessivamente, ma è fatto di tante, si chiamano componenti connesse, tante parti, nella geografia sarebbero i continenti, all'interno delle quali si può spostare, ma da una all'altra non c'è connessione, da una componente all'altra. Ok, quello è l'obiettivo, il primo tipo di algoritmo che vediamo è quello della visita in ampiezza, breadth first, che tende a trovare quali sono i vertici raggiungibili ragionando per livelli. Detto parole semplici, io parto dai vertici di partenza e prima di tutto mi chiedo quali sono tutti i vertici adiacenti a quelli di partenza? Questo è facile, ho detto il grafo, lo interrogo, chiedendo l'elenco dei vertici adiacenti. Calcolo tutti quelli che chiamo di livello 1, che sono a distanza 1, a un arco solo di distanza dal vertice di partenza. Poi trovati tutti questi del livello 1, dell'anello 1, mi chiedo quali sono i vertici adiacenti a questi? I nuovi vertici che non siano adiacenti a quelli di partenza, ma che siano adiacenti ad almeno un vertice di livello 1 e questi li chiamerò vertici di livello 2. Sono i vertici raggiungibili da un vertice che è raggiungibile in un passo e quindi sono vertici tragiungibili in due passi. Quindi mi immagino un'espansione un po' a macchie concentriche, il vertice di partenza, quelli a lui adiacenti, quelli adiacenti agli adiacenti e così via. A livello 3 ci saranno tutti i vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice del livello 2 e che già essi stessi non sono né nel livello 2 né nel livello 1 né nel vertice di partenza. E vado avanti così. Prima o poi questo meccanismo di espansione si fermerà, perché non troverà più nessun vertice che non abbia già visto in precedenza. Non mi interessa tornare indietro. Se sono arrivato a livello 7, un altro vertice che sia adiacente a questo signore qua del livello 7, ma magari l'ho già visto nel livello 4, non mi interessa più. Non dico che è nel livello 8, perché l'ho già visto prima nel livello 4. Quindi nel livello di pseudocodice io definisco una serie di insiemi, una lista di insiemi, S0, S1, S2, S3, un insieme per ogni livello. Partendo dal livello 0, L è il livello. Il vertice di partenza, l'insieme dei vertici del livello 0, l'insieme dei vertici che costituiscono il livello 0 è per definizione il solo vertice di partenza, quindi l'insieme contiene un elemento solo. L'insieme del livello L più 1 lo ottengo considerando i vertici DSL del livello L, del livello precedente, valutando quali sono i vertici adiacenti e che non siano ancora stati visitati. Graficamente, se questo è il grafo e questo è il vertice di partenza, il livello 0 sarà costituito dall'insieme costituito dal solo S. Il livello 1 è fatto dai vertici che sono adiacenti a S ma sono diversi da S stesso. Adiacenti a S c'è R e W, quindi il livello 1 è costituito dai vertici R e W. Poi iterando, il livello 2 sarà costituito dai vertici adiacenti a R oppure adiacenti a W ma che non siano né R né W né S, perché l'ho già visti. E quindi che cosa avrò? Tra gli adiacenti di R troverò V, tra gli adiacenti di W troverò T e anche X. Quindi il livello 2 è questo, V, T, X. Ovviamente di adiacenti a W e R c'era anche S, ma non l'ho considerato, perché S l'avevo già visto. A questo punto, livello 2. Livello 3 dovrò cercare i vertici adiacenti a T, adiacenti a X e adiacenti a V che non siano già nei livelli già identificati. Quindi chi c'è di adiacente a V? R. R l'ho già visto? Sì. Quindi da V non salta fuori nulla di nuovo. Chi c'è di adiacente a T? C'è U. L'ho non li considero. Stessa cosa su X, che adiacenti ha il signor X? W già visto, T già visto, Y non ancora visto. E quindi U e Y vengono aggiunti a formare il livello 3 della visita di un'ampiezza. Quindi una visita che procede dal centro della versione di partenza allargandosi in tutte le direzioni. Poi in alcune direzioni, tipo quella verso V, si è esaurita prima la visita. Non c'era più niente da trovare. In altre è andata un pochino più avanti fino a livello 3. A questo punto io ripeto ancora l'algoritmo partendo da livello 3, cercando i nodi di livello 4. I nodi di livello 4 non li trovo perché gli adiacenti di U sono T e Y, che sono entrambi già visti. Gli adiacenti di Y sono U e X, che sono entrambi già visti, quindi non ho nulla da aggiungere a livello 4. A livello 4 l'insieme è vuoto e la visita termina. Il risultato della visita qual è? È che l'insieme dei nodi raggiungibili da S e tutto il grafo. Sono S, R, W, V, T, X, U e Y, elencati nell'ordine in cui li ho scoperti. Ma è soltanto un insieme, quindi non c'è tra l'ordine. L'importante è quali sono i vertici che ho trovato. Quindi questo è un metodo abbastanza intuitivo, probabilmente è quello che faremo noi a mano, almeno per i primi livelli, poi magari ci rischiamo di perderci. Però basta etichettare con 1, 2, 3 i vari nodi man mano che li incontri. Nel fare la visita, alla fine abbiamo trovato dei vertici, ma può essere interessante, questo in generale, non solo per la visita in ampiezza, lo vedremo anche per quella in profondità, ricordarci come abbiamo scoperto un certo vertice. Un conto è dire in bicicletta puoi arrivare in Danimarca, sì, passando da dove? Dimostramelo e te lo dimostro perché dunque io so che sono arrivato in Danimarca arrivando dalla Germania, sono arrivato in Germania passando dalla Francia e la Francia confina con l'Italia, ad esempio. Ma è uno dei tanti modi, però dammene almeno uno, dimmi qual è. Allora, quando io ti dico questo vertice è raggiungibile, per dimostrarmelo tu devi essere in grado di dire sì, perché l'ho raggiunto a partire da quest'altro vertice, che a sua volta era raggiungibile. E se vuoi, quell'altro, come fai a essere sicuro sia raggiungibile? Sì, perché l'ho raggiunto partendo da quell'altro e così via. Quindi può essere utile tenere traccia del modo in cui ho scoperto ogni nuovo vertice. Allora questo insieme di modi in cui ho scoperto ciascun vertice della visita costruisce un albero, costituisce un albero. Un albero la cui radice è la sorgente della visita, e le cui foglie vabbè sono i nodi di livello più alto. Ogni nodo, questo sarebbe l'albero corrispondente alla visita precedente, che abbiamo visto prima, la visita d'ampiezza che abbiamo visto prima. A livello 0 c'è S, a livello 1 c'erano R e W, R l'ho scoperto da S, cioè ho visitato R partendo da S, ho visitato W partendo da S. Quindi questi qua in rosso, evidenziati in rosso sono gli archi dell'albero di visita. X l'ho raggiunto da W, Y l'ho raggiunto da X, Y avrei anche potuto raggiungerlo da U passando da T, sarebbe stato legittimo? Sì, ma io nel mio algoritmo l'ho raggiunto da X. Allora se considero solamente gli archi che ho usato per scoprire nuovi nodi, per aggiungere nuovi nodi ai livelli, alla visita, quello che ottengo è un albero. Sapete che l'albero è il grafo di confine tra i grafi disconnessi e i grafi ciclici, lo useremo questa proprietà più avanti. Cioè se io ho dato un albero, in questo caso ho scelto S come radice, togliete un qualunque arco, il grafo si spezza in due, si separa. Quindi non posso togliere un arco senza staccare il grafo in due metà, se ho un albero. E se provate ad aggiungere un arco si crea un ciclo. E nel grafo iniziale c'erano dei cicli WTX, WTU, YX, W, era possibile girare in tondo. Però se io voglio fare la visita, il mio giro in bicicletta non ha senso girare in tondo, io voglio avere dei percorsi che non si ripetano, che non tornino indietro. Quindi il modo più semplice per riassumere i risultati di una visita è anche quello di fornire l'albero della visita, che mi dà tutte le informazioni su quali vertici ho raggiunto e come li ho raggiunti. E quindi da lì è possibile addirittura ricostruire dei percorsi. E per come funziona la visita in ampiezza, i percorsi che trovo sono minimi, sono i più brevi, perché io non farò mai tre archi se ne potevo fare due. Io prima di aggiungere un nodo a livello 3 devo aver scoperto tutti quelli del livello 2. Quindi l'albero corrispondente alla visita di un grafo in ampiezza mi definisce dei percorsi tra il nodo sorgente e tutti gli altri nodi raggiungibili, quelli non raggiungibili non raggiunti, finite lì, non fanno parte dell'albero, tra tutti i nodi di partenza e i nodi raggiungibili che hanno il numero minimo di archi in questi percorsi. In un grafo non pesato è tutto ciò che voglio, in un grafo pesato il numero minimo di archi non è detto che sia la distanza minima, perché magari un arco è lungo 10 volte più di un altro e quindi conviene fare tre archi più brevi piuttosto che uno lungo, scopriremo più avanti come fare a trattare il caso dei grafi pesati. In ogni caso una visita in ampiezza mi trova dei percorsi di raggiungibilità che usano il numero minimo possibile di archi, se poi il grafo non è pesato il numero minimo di archi significa anche la distanza minima, se gli archi sono tutti lunghi uguali. Sulla base di questo, volendo potremmo implementarci questo algoritmo, si lavora con dei set, si fa somma, intersezione, insieme eccetera eccetera, ma non ne abbiamo bisogno, no? Perché JGraftT vedremo la volta prossima ha già i metodi per farlo. Un altro tipo di visita, dicevo diametralmente opposta, è la visita in profondità. Scusatemi, cambio ordine delle operazioni, la vita in profondità vediamo dopo, vi faccio vedere subito, che secondo me fruttano meglio questi 5 minuti che ci rimangono, i metodi nella libreria JGraftT per fare la visita in ampiezza, così non vi lascio il dubbio. In JGraftT, poi la volta prossima parleremo della vita in profondità, ma così lo facciamo con più tempo a disposizione. Quindi quella è una visita in ampiezza che abbiamo detto se vuoi te lo implementi con i set facendo un ciclo, iterando un'iterazione per ogni livello. Oppure dentro JGraftT esistono, esiste un package che è JGraftT.traverse, che contiene delle classi, allora la libreria JGraftT anziché chiamarle visite le chiama attraversamenti del grafo, la stessa cosa, sono due nomi diversi per la stessa cosa. E il concetto di visita lui lo implementa attraverso il costrutto, il pattern dell'iteratore. Quello dell'iteratore è una classe che ha un metodo next. Ha un metodo as next che ti dice se c'è l'elemento successivo e un metodo next che ti dice qual è l'elemento successivo. Allora, creare una visita significa istanziare una classe di tipo GraphIterator. GraphIterator è un'interfaccia, quindi tutte le visite, tutti gli attraversamenti sono classi che implementano l'interfaccia GraphIterator. E qui vediamo che c'è la base, c'è un afterGraphIterator che è la classe interna da cui derivano le altre, poi c'è l'iteratore breadthfirst in ampiezza, l'iteratore closest first, il più vicino, l'iteratore depth first, visita in profondità e così via. Nella definizione dicevamo un metodo sistematico per trovare tutti i vertici, ecco qui ci sono almeno 5 metodi sistematici diversi tra di loro, che alla fine mi calcolano gli stessi vertici, cioè quelli raggiungibili, ma lo fanno in modo diversi, con complessità diverse, con tempi di esecuzione diversi e con percorsi diversi, a volte convengono alcuni, a volte convengono altri. Dal punto di vista del codice è molto semplice, perché un iteratore ha un metodo asnext e un metodo next, dicevamo. Quindi questo qui non guardatelo ancora, qui non c'è visitare un grafo, cioè attraversare un grafo partendo da un certo nodo, dovrei costruire esempio un breadth first iterator di, in questo caso country default edge, bfs, breadth first visit, uguale new, vabbè, first iterator, che lavora sul mio grafo. Il secondo parametro dovrebbe essere, no, non è il vertice di partenza, sì, c1, supponiamo che dovrebbe partire, fare una visita partendo dal vertice c1, se non specifico il vertice di partenza sceglie lui il primo vertice del grafo, ma normalmente non è quello che voglio io. Quindi questo bfv è un iteratore che a questo punto ogni volta che chiamo il metodo next di questo iteratore mi darà un vertice nuovo del percorso di visita. Quindi semplicemente dovrò fare un while bfv, breadth first visit, as next, farò ora, non so, facciamo finire di stamparlo, di bfv.next. beh, se che stamparlo magari lo metto in una lista, lo metto dentro un set, lo faccio add in una collection, così me ne ricordo. Meglio sarebbe appunto fare visited.add di bfv.next. il metodo next mi restituisce un oggetto di tipo vertice, in questo caso un oggetto di tipo country. Ogni volta che chiamo next mi restituisce un oggetto di tipo country, un nuovo vertice, finché ce n'è. Poi quando non ne trova più, as next diventa falso, io esco dal ciclo while e ho l'elenco dei vertici. Quindi in questo caso mi genererebbe, sul grafo dell'esempio e delle slide, mi genererebbe esattamente i vertici che abbiamo visto nell'ordine in cui li abbiamo visti, salvo per il fatto che magari all'interno del stesso livello li potrebbero mettere in ordine diverso, perché noi li abbiamo messi in ordine più o meno alfabetico, ma dipende dalla funzione di hash lì dentro che cosa gli dà. Quindi quando avete un vertice e volete trovare tutti i vertici raggiungibili da quello, semplicemente questo è il codice da usare, di base con cui lavorare. Ti permette di costruire l'insieme o la lista dei vertici raggiungibili, non ti dà questo l'albero di visita. Se vi interessa l'albero di visita, lo facciamo insieme una volta prossima, ma sappiate che i suggerimenti sono qua, su questa slide, che dice che l'iteratore stesso, mentre itera, genera degli eventi. Il ragionamento è ormai lo stesso che facevamo anche con JavaFX, faccio delle cose che generano eventi. Ecco, gli eventi che un iteratore genera sono eventi di attraversamento di un arco, attraversamento di un vertice, eccetera, eccetera. Quindi io posso andare a registrare dei gestori, dei listener, degli handler, degli eventi, della visita e quindi quando lui trova un vertice nuovo, mi faccio chiamare un mio metodo, che è lì in ascolto di quell'evento, che si registra qualche informazione. Quindi per chi è curioso, può cominciare a pensarci. La volta prossima vedremo la visita in profondità, diciamo dal punto di vista teorico, perché dal punto di vista del codice non cambia niente se non mettere depth come profondità al posto di breadth come ampiezza. Fine. Dal punto di vista del programma che deve usare la libreria è già grati. Quindi vari tipi di visite funzionano tutte nel stesso modo e l'algoritmo interno è schermato a noi che dobbiamo usarlo. Va bene? Buona serata allora.